Torna in auge il baratto amministrativo, una risorsa possibile che potrebbe essere propedeutica sia per i cittadini dal punto di vista economico che per la città dal punto di vista del decoro. La mozione è presentata dalla Lega, qui consigliere Pascolini. Ci può spiegare in cosa consisterebbe anche nel dettaglio questa mozione? Intanto devo fare una premessa, una premessa che questa mozione è stata già presentata in passato dai 5 Stelle, nulla voglio togliere a quell'iniziativa, che però è stata affussata e accantonata dall'amministrazione comunale perché sembrava che c'erano dei motivi di non conformità con i bilanci comunali. Noi la ripresentiamo alla luce di situazioni analoghe che ci sono susseguite in tantissimi comuni dell'Umbria, cito Todi, cito Perugia, cito Foligno, cito Orvieto, città di Castello, addirittura lo stesso Gualotadino, che sono già attive o sono in itere. In che consiste? Consiste nella legge, soprattutto per la Sblocca Italia, che dà la possibilità di fare, diciamo, concordare con i cittadini, sia singoli che con l'associazione, una forma di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio comunale e per la manutenzione. Allora, sappiamo tutti che uno dei problemi principali della città di Gubbio è quello della manutenzione e quindi quello del decoro cittadino. Arrivano segnalazioni tutti i giorni, vi giuro, tutti i giorni arrivano segnalazioni di situazioni indecenti nella città, ma lo vediamo tranquillamente, sia nel centro storico che nelle frazioni. Questo potrebbe essere uno strumento che dà all'amministrazione, quindi, dei benefici in termini di decoro cittadino, quindi i cittadini che fanno un lavoro per l'amministrazione comunale e quei cittadini che magari hanno difficoltà economiche e familiari, che non riescono magari a pagare i tributi locali e quindi a fronte di pagamento dei tributi locali fanno un servizio alla città. Questo può essere naturalmente un accordo che può fare l'amministrazione comunale con le associazioni, come in qualche maniera sta facendo, ne cito una per tutti, il quartiere di San Giuliano che ha adottato la piazza di San Giovanni. Lo può fare con i privati, naturalmente con quei privati che sono in difficoltà a pagare e quindi in difficoltà economiche. Io penso che sia un'iniziativa molto lodevole e che mette anche in evidenza un'altra cosa, che siamo all'inizio, diciamo, di un nuovo mandato amministrativo e mette in evidenza anche che la Lega non dice no, ma la Lega fa anche proposte.